Quando torna Meli a Palermo, verrebbe di richiedere di nuovo di quel rigore parato a Ronaldinho? Qui ho trascorso un'annata meravigliosa fatta di eventi bellissimi, tra cui quello del rigore a Ronaldinho che è stata una gioia per me ma per tutti i tifosi palermitani, poi abbiamo vinto la partita oltretutto quindi c'è sempre grande ricordo ogni volta che atterro a Punta Raisi e mi avvicino verso questa meravigliosa città. Adesso il motivo in più è l'amicizia con Francesco La Cavera, un camp internazionale, 80 ragazzi che arrivano da tutta Europa per una settimana di grande lavoro e anche di grande divertimento. Assolutamente sì, l'amicizia con Francesco che ormai va avanti da tantissimi anni, tanta programmazione per quello che riguarda i camp, le scuole calcio e 80 ragazzi qui da tutta l'Europa 80 perché ci siamo dovuti limitare a 80 ma le richieste sono molto più alte però qui si cerca di fare un lavoro di qualità insieme a Francesco e tutti i suoi collaboratori si porta avanti questa bellissima cosa e soprattutto si porta avanti anche qui a Palermo perché poi il contesto, la città in cui lo fai conta anche quello e quando lo fai a Palermo personalmente io ci devo essere. L'anno del Mondiale, Francia e Croazia in finale, te l'aspettavi? Io sono tre mesi che puntavo su Inghilterra e Belgio ma ci sta quando arrivi alla fine, dai quarti in poi sono tutte partite difficili che non hanno mai una squadra favorita sull'altra. La Francia sì però avevo dei dubbi sulla gestione del mix tra giovani e esperti perché poi la Francia ha sempre dimostrato di arrivare in fondo in ogni manifestazione però ecco ho detto io mi aspettavo l'Inghilterra che nessuno dava per favorita che comunque ha fatto un ottimo mondiale, il Belgio perché secondo me ha dei giocatori importantissimi un ottimo allenatore e poi questa Croazia che diciamo che per chi segue il calcio viene vista in seconda fascia però questa è una squadra che iniziò un percorso dopo il mondiale che vincevamo nel 2006 la prima amichevole fatta da Unitalia giocammo contro di loro, c'erano giocatori giovani fortissimi parlando di uno su tutti che era Modric che hanno fatto esperienze oggi sono dei giocatori importanti che hanno vinto delle partite importanti che hanno saputo soffrire anche nelle partite più difficili come quelle dei quarti e anche nella semifinale di ieri e oggi si andrà a giocare questa finale contro una grande squadra quindi sarà una finale tutta da vedere e bella da giocare anche però purtroppo noi non ci saremo Quel 2006 è stato un anno pazzesco, la vittoria del mondiale, poi a novembre il gol a Belgrado poi arrivare nella nomination dei migliori portieri, poi vinse Buffon a proposito di Buffon, a 40 anni si va a Parigi, cosa scatta nella testa di un portiere? Scatta che Gigi ha una mentalità vincente, una mentalità che pochi hanno altrimenti non avrebbe fatto quello che ha fatto nella sua carriera aveva ancora voglia di giocare, questo lo si capiva anche nelle ultime partite nelle ultime interviste che abbiamo visto fare con la maglia della Juventus è naturale che poi quando hai questa voglia cerchi di farlo con le squadre migliori e se ti capita il Paris-Sacermain non puoi dire di no neanche a 40 anni poi anche perché ho visto gli allenamenti alla fine agli stessi ritmi degli altri portieri giovani che si allenano in questo momento con lui, all'esperienza, esperienza che serve all'interno dello spogliatoio del Paris-Sacermain perché è una squadra che vuole vincere anche in campo europeo e quindi credo che questo mix sia stato perfetto, vedo delle cose positive intorno a questa situazione auguro a Gigi di poter coronare il suo sogno che è quello di poter vincere la Champions League Cristiano Ronaldo alla Juventus è un grande colpo per tutto il movimento, per tutto il calcio italiano Amelia se lo vorrebbe trovare di fronte? me lo so, trovo di fronte più di qualche volta sia con il Portogallo, in dei amichevoli o con Real Madrid però quando giocatori del genere accettano di venire in Italia significa che stiamo cambiando qualcosa quindi bravissima la Juventus a mettere in piedi un'operazione del genere che poi economicamente può sembrare così grande e invece dal mio punto di vista ha portato un giro economico ancora più importante all'intero movimento del calcio italiano e non perché devo dire che anche delle attività che possono lavorare intorno a questo grandissimo giocatore possono incrementare anche il livello economico se si vuole parlare di questo, però Cristiano non porta solo questo, Cristiano porta qualità negli allenamenti qualità nelle partite e deve essere preso da esempio per come lui intraprende questo mestiere con serietà, con voglia di allenarsi sempre al massimo, spirito di abbringazione, spirito di essere leader aiutare i compagni e questo è fondamentale quando giocatori del genere vengono in Italia io sono l'uomo più felice del mondo, mi sarebbe piaciuto ancora giocarci contro però ecco Cosa c'è nel futuro di Marco Ameli? Nel mio futuro vedremo, ancora è tutto da scrivere, da decidere intanto c'è il camp qui a Palermo, c'è la possibilità di rivedere la città, di rivedere tanti amici di andare a Mondello, vedere il mare, la spiaggia quindi per il futuro oggi e domani è questo, il resto si vedrà Grazie